Ciao a tutti e bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo in compagnia del catalogo di C7 di Stenom. Alcune di voi sotto l'ultimo video spacchettamento di Stenom mi hanno detto che sono molto interessata a questi prodotti, alcune di voi le utilizzano e qualcuna mi ha proposto di girare questa tipologia dei video, ovvero sfogliare il catalogo per scoprire le promozioni. Ho guardato su YouTube e questa tipologia di video non viene girata da nessuno, quindi ho pensato che poteva farvi piacere vedere le offerte nei cataloghi. Fatemi sapere se siete interessati, se questo video può piacervi così girerò anche gli altri cataloghi. Già la copertina con i suoi colori e la sua trama floreale ci introduce alla nuova collezione che è la Flower Power. Molti prodotti Stenom vengono cambiati di packaging e di profumazioni e faranno parte di questa linea in edizione limitata. Apriamo subito il catalogo, il primo prodotto è un prodotto novità ed è il Pouchent che è un diffusore profumatore per la casa. È composto da un diffusore in cartonato decorativo naturalmente floreale e una fiala di profumo da 7 ml. 7 ml sembrano un po' poco ma ci dice Stenom che questa profumazione dura per 6 settimane. La profumazione è alle note tropicali e lo trovate oltre al 30% di sconto a 6,90€. Girando pagina troviamo gli altri prodotti che faranno parte di questa linea. La prima è la BC Fresh che sono tavolette BC 3 in 1 in edizione limitata con note fresche di fiori di celiegio a 7,50€. Ne trovate due all'interno. Poi abbiamo il Daily Wash che è il detercente concentrato per bucato bianco e colorato. Un litro e mezzo di prodotto in offerta a 9€ con delicate note floreali. E infine il famosissimo Degreaser. Questo è un formato da 750 ml. Il Degreaser è il famosissimo sgrassatore concentrato multisuperficie. 750 ml 8,50€. Già la profumazione classica a me piace moltissimo. Questa invece sarà le note di Lisbeth Nero e Pra Barbaro. Naturalmente c'è un set in offerta oltre il 30%. Abbiamo all'interno Daily Wash, Vici Fresh e Degreaser. Tutte e tre a soli 19,90€ invece che 30€. Ottimo, ottimo set. Un altro prodotto che cambia di profumazione sempre in edizione limitata è il Tri-Heat che è un detergente 2 in 1 per le pulizie pesanti, un additivo di lavaggio anche per tessuti resistenti. Lo potete utilizzare sia all'esterno per il pavimento del terrazzo, garage, serrande, davanzali, persiane e all'interno per termosifoni, camminetti e pattumiera. Il Tri-Heat è da un litro, la profumazione come vi ho detto è all'arancia e costerà in offerta solo 8,50€. Un altro prodotto novità è l'Hair Spray in profumazione bouquet floreale. Gli air spray sono in offerta 1 a 8,90€ mentre 2 che potete scegliere se uguali o differenti di profumazione a 15,80€. Altri prodotti in promozione sono i prodotti per quanto riguarda la cura del parquet. Il primo è il parquet polish, ha 10,90€ un litro di prodotto ed è la cera per parquet lavabili, mentre il secondo è un vero e proprio detergente, infatti dice pulitore per tutti i tipi di parquet, parquet cleaner, un litro di prodotto a 7,90€. Un'altra grande promozione è sui multi floor che sono praticamente dei detergenti pulitore concentrati, pavimenti lavabili, un litro di prodotto nella promozione 1 più 1 ovvero due prodotti che potete acquistare uguali o differenti nelle fragranze a soli 11,80€. Abbiamo tè verde oppure bergamotto e fiori d'arancio oppure pino ghiacciato. Passiamo ad un altro prodotto in offerta che è il carpet cleaner, questo è un prodotto che mi intriga moltissimo, è una schiuma attiva detergente per tappeti moquette e tessuti d'arredo, lo vorrei utilizzare per alcune macchie che ho sul divano, 500ml a soli 6,90€. Un'altra grande promozione è sul Super Hunt e Rock Killer che è un insetticida contro insetti volatili e striscianti, tre di queste confezioni da 300ml a soli 19,90€. Questo è un presidio medico chirurgico. Altri prodotti in promozione per le pulizie un pochettino più strong sono la spazzola multiuso a 7,90€ per appunto andare a togliere lo sporco anche nei punti e negli angoli più difficili, mentre il Active Drain da un litro di prodotto, è uno disgorgante potente per gli scarichi con soda caustica, un litro di prodotto a soli 7,90€. Un prodotto che a me piacendo moltissimo è in super offerta, infatti mi sa che ne farò scorta è il pre-wash, ovvero uno smacchiatore pre-lavaggio per il bucato. Mezzo litro di prodotto a 6,90€ in promozione. Questo è un prodotto che si spruzza sulla macchia del vostro bucato sia bianco che colorato, si fa agire per 1-2 minuti, si butta in lavatrice e quando finisce il lavaggio la macchia non esiste più. Ottimo prodotto, mi piace un sacco. Sempre per la pulizia del bucato abbiamo il white wash che è un detergente ultra concentrato dedicato solo al bucato bianco, 750 ml in offerta a 8,50€, mentre il prime wash che invece è un detergente ultra concentrato per bucato bianco e colorato, un litro di prodotto a sole 9,90€. Lava e smacchia in profondità il tuo bucato. Poi c'è il blue crystal che sono 10 sacchetti all'interno di questa confezione e sono cristalli antitarme profumati alla nota di lavanda, anche questo è un presidio medico chirurgico e sono in offerta a 10,90€ oltre al 35% di sconto. Gli ammorbidenti, questi sono i fresh soft, in profumazione pesca e peonia oppure muschio e fiori bianchi in offerta a 6,90€ sono un litro di prodotto. Passiamo alla lavastoviglie e parliamo del disc gel che è un gel detergente concentrato per la lavastoviglie e per le stoviglie. Questo è un 720 ml di prodotto, dice che è un detergente brillantante e sale rigenerante, quindi un 3 in 1 e lo trovate in offerta con lo sconto di oltre il 30% a 9,90€. La linea Care è la linea più delicata e quindi adatta anche per le persone che hanno delle allergie. In promozione abbiamo l'Easy Class Care che è un pulitore vetri interni ed esterni 500 ml con una super offerta a 9,50€. Passiamo ai prodotti per la polvere, abbiamo in offerta il Mup & Duster 400 ml, è un rigeneratore di efficacia per accessori in tessuto, 8,50€. Dice di usarlo per rafforzare il potere antistatico degli accessori da spolvero ed ha una fragranza dalle noti floreali e orientali. in più abbiamo anche il panno in microfibra per lo spolvero, è un 40x40 cm, si chiama Dusk Clothes e l'ho trovato in offerta a 8,50€, questo vorrei acquistarlo. Per il bagno con oltre il 30% di sconto abbiamo il Bat Cleaner che è un litro di prodotto, è un prodotto che io sto utilizzando per il mio bagno da più o meno un mese, mi ci sto trovando molto bene ed è un'offerta a 6,90€ ed ha un buonissimo profumo di aloe vera. Altri due accessori per la pulizia che potete utilizzare per bagno e cucina sono la Bedroom Sponge che ha due lati a 4,99€, mentre lo Scrati Clu Blue che è una microfibra a doppia tessitura per superfici lavabili ha soli 5,99€. Poi abbiamo i Blue Drops che sono dei neutralizzanti degli odori che potete usare nel WC, nelle tubature, nelle pattumiere, negli aspirapolveri eccetera eccetera, questo è un elimina odore pratico dal profumo intenso, 30ml perché ne basta pochissimo, a soli 5,90€. Passiamo ai prodotti per quanto riguarda la pelle, abbiamo il bassamo nutriente per articoli in pelle 150ml a 9,90€, invece quello in formulazione spray ovvero la lozione detergente per la pelle 350ml a 7,90€ e infine abbiamo l'applicatore in spugna a 4,50€. Per quanto riguarda il rame, il bronzo e ottone abbiamo il Cooper e Brass 250ml, è una crema antiossidante 8,50€ e un prodotto che io sto amando e ho già fatto scorta è lo Stale Spray 500ml, è un pulitore per superficie in acciaio inox a 8,90€. Altri prodotti che non sono in offerta per bucato, ambiente, disinfezione e bagno. E ora rimaniamo sempre in Stenon però nella linea Family Care ovvero quella dedicata a capelli, corpo e viso. In offerta ci sono molti prodotti per quanto riguarda i piedi, il primo è il Fitbat che è un pediluvio rilassante 100ml a 6,90€ ma se voi acquistate il pre-wash ovvero lo smacchiatore che vi ho fatto vedere prima per il bucato bianco e colorato lo pagate solo 5€. Gli altri prodotti sono in offerta invece da 6,50€ fino a 7,90€. Abbiamo le diverse creme piedi quindi la riparatrice, le sfoglianti intensivo piedi e la nutritiva e poi abbiamo le lozioni rinfrescante gambe piedi 250ml a 7,90€ e anche lo spray antitraspirante per i piedi da 100ml. Un'altra grande offerta sempre dedicata all'uno più uno è sui detergenti intimi, ne potete acquistare due in offerta a 10€ quindi pagarlo l'uno solo 5€, 200ml l'uno. Passiamo ai solari che speriamo di utilizzare quest'estate ma la vedo dura. SPF 30 della Sun Protect e anche l'SPF 50+, in offerta a 14,90€. Questi sono formati da 125ml mentre il gel fluido idratante dopo sole è un 150ml in offerta a 8,90€. Per quanto riguarda la detersione di pelli secche abbiamo il Nutri Shower Cream che è una crema doccia ultra protettiva per pelli secche 400ml a soli 7,90€ e invece la formulazione in olio idratante liporestitutivo pelli secche 400ml in offerta a 8,90€. Altri prodotti non in offerta. Passiamo ai prodotti per i capelli poi torniamo indietro per vedere un inserto. Abbiamo la maschera Nutri Riparatrice 150ml a soli 8,90€ e abbiamo lo shampoo antiforfora 200ml a 7,90€. Un'altra grande offerta sulla crema All Purpose sono una crema di 300ml a 12,90€. Messe se ne acquistano due a 20,90€ quindi la pagate circa 10,45€ l'una. È un nutrimento quotidiano per pelli normali e secche, previene la disresatazione e protegge le aggressioni esterne. Passiamo ai prodotti per le mani in offerta l'endogel che è il gel detergente mani senza risciacquo 50ml a 4,50€. I deodoranti roll-on in offerta a 8,50€ l'uno il 50ml. Girando pagina troviamo SOS fastidi all'aria aperta sperando di poterli utilizzare presto. Abbiamo appunto il No Inset 100ml a 8,90€. Presidio medico chirurgico, il gel al mentolo il Cool & Calm 50ml a 6,90€. E la crema lenitiva SOS Cica che riduce il rossore della pelle e la sensazione di calore e fastidio. Formulata con zinco e previene la proliferazione batterica a 6,50€. Questi prodotti sono oltre il 38% di sconto. E l'ultimo prodotto in offerta Family Care sono i Deo Spray, ovvero due Deo Spray a soli 9,90€, quindi li pagate circa 4,95€ l'uno. Ritorniamo indietro con le pagine e vi faccio vedere un inserto della Dottor Pierre Richao. Con una spesa di 35€ si può avere la pochette firmata Cruciani in omaggio e i prodotti all'interno sono come sempre solari. Abbiamo appunto la protezione 30, 22€ per viso e corpo 125ml, sembra 22€ la crema solare SPF 50. Per quanto riguarda il doposole abbiamo un concentrato doposole viso idratante lenitivo 30ml a 20€ e infine il latte corpo lenitivo prolungatore di abbronzatura 200ml a 15€. Quindi già con una protezione e un doposole si arriva facilmente ai 35€. Altri due prodotti per quanto riguarda il viso e il sole abbiamo la crema antiruga SPF 20 40ml a 25€ e la crema solare SPF 50 viso col decolté 50ml a 20€. Capovolgiamo il catalogo per scoprire le novità beauty. Allora in copertina abbiamo subito l'I love beauty che è un programma fedeltà ovvero se si acquistano due tipologie di prodotto nei cataloghi C7 e C8 si può avere in omaggio questa collana molto fine morellato a soli 12,90€. Vi faccio vedere cosa potete ordinare in questa campagna ovvero il primo è un set dedicato al makeup Flomar, abbiamo all'interno i rossetti cashmere in cinque colorazioni best seller quindi potete scegliere una delle cinque più la matita Smuky High in colorazione carbon black e pagare questo set a soli 13,90€. Se non vi interessa il makeup potete scegliere invece questo set Chiotis al costo 19,90€ all'interno di questo set abbiamo il gel fresco corpo 150 ml più il gel doccia e sfogliante da 200 ml che se comprati singolarmente costano il gel fresco a 14,90€ e il gel doccia e sfogliante a 7,90€ mentre nel set quindi andate a risparmiare a 19,90€ entrambi. Via lo stress della tua pelle abbiamo la linea Defi Detox che ha l'olio detergente anti-smog 200 ml a 6,90€ oppure la crema trattamento giorno 50 ml classici a 15,90€. Per la doccia abbiamo due olio a doccia a 5,90€ in due fragranze diverse, gli scarab sono in offerta due a 19,90€ mentre se ne acquistate uno a 15€ quindi vi conviene acquistarne due. Sono sfoglianti uno purificante effetto ghiaccio mentre l'altro è l'effetto sabluso. Abbiamo la linea Chiotis Hydra Splash che è la linea idratante di Chiotis all'interno il gel migellare idratante a soli 3,90€ a 100 ml e poi abbiamo la linea per quanto riguarda l'idratazione del viso giorno e notte a 18,90€ l'una. Il fondotinta Lift Parfait 3 colorazioni a 19,90€ sono i classici 30 ml e invece la linea Lift Parfait le creme a 26€ l'una. Della linea Control Genes abbiamo una promozione che se si acquista la crema al giorno si ha in offerta gratuitamente la crema notte e il set costerà appunto 43€. Della Chiotis abbiamo un'offerta 2x1 ovvero due acque micellari a 13,90€ invece che 24€ sono 200 ml l'una. i profumi di Chiotis, il Mon Chiotis e il Sweet Folie entrambi da 50 ml a 22,50€ l'uno. Abbiamo tutti gli altri prodotti della linea quindi viso e corpo che non sono in offerta della Chiotis. Passiamo al make up con Flomar. Abbiamo come primo prodotto il Matte Waterproof Deep Liner che è un eyeliner liquido a 6,90€ e in più abbiamo anche un'offerta sul Flomar Tribe Action Mascara ovvero un mascara tripla azione con la rotellina e costerà 11,50€ in promozione. La palette di ombretti 4 colori in 4 tonalità diverse a 7,50€. Una promozione che invece mi interessa molto sono gli Ultra Eyeliner matita colore intenso a 5,90€ e per ogni matita acquistata a 99 centesimi potete avere anche il suo temperino. Tutti gli altri prodotti che non hanno un'offerta particolare del catalogo di Flomar sia per gli occhi e sia per quanto riguarda il viso con fondotinta, ciprie, correttori. Per le labbra torniamo a delle offerte. Il primo è il rossetto liquido effetto matta a 7,50€, trovate 6 tonalità, mentre per un effetto glossy abbiamo i Daily Lip Glaze, lucida labbra effetto rugiada a 6,50€. Altri prodotti labbra con nessuna offerta, mentre in offerta abbiamo i Color Up Lip Crayon, sono 6 colorazioni, 7,90€. Un fondotinta in offerta è il Flomar Perfect Foundation, è uno degli ultimi usciti, adatta a tutti i tipi di pelle, ad alta copertura, 4 tonalità che potete scegliere, SPF 15 con una durata di 12 ore, 10,90€ all'uno. Per quanto riguarda il viso, terre e illuminanti a 10,90€, due tonalità per la terra e due tonalità per l'illuminante. Un set di pennelli secondo me molto completo con due pennelli per il viso e due per gli occhi a 19,90€, con anche la cipria Invisible Loose Powder, che è quelle ciprie in polvere libera trasparenti a 10,50€, ci sono 18 grammi di prodotto, quindi è un buonissimo quantitativo. I due blush e terra a 7,50€, due tonalità che potete scegliere per un effetto opaco e naturale e i blush da colori intensi. Ritornano in offerta gli smalti Flomar, sono dei buonissimi smalti con una buona durata e delle colorazioni molto molto belle a 2,99€. Sempre per le unghie abbiamo tutte le basi rinforzanti e top coat, mentre in offerta è il leva smalto all'orchidea classico da 125ml che costa 3,90€. Un nuovo prodotto per quanto riguarda Flomar, parliamo della Skincare Viso, questa è una confezione da 100 pezzi, sono dei removal pad, ovvero dischetti struccanti già bevuti a 6,99€. Ritorniamo alla linea Dr. Pierre Ducciao, questa è la linea rimodellante e rassodante, troviamo i prodotti a partire da 25€, altri prodotti non in offerta. Un prodotto in offerta invece è il latte corpo pelle rinnovata, 195ml, 12,90€. In offerta la linea Collagenes Lift, ogni crema costa 39€ e invece poi ci sono dei trattamenti specifici non in offerta. La linea Lumini Expert, il contorno occhi 3 in 1 a 15,90€ e 15ml, mentre la crema da 40ml per recuperare luminosità e giovinezza a 39€. Bene ragazze, il catalogo e le promozioni Stellum sono finite. Fatemi sapere se alcune di queste promozioni vi interessano qua sotto nei commenti e se qualcuno di questi prodotti l'avete provato e volete consigliarmelo. Vi ricordo se non lo siete ancora di iscrivervi al canale, di azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e di seguirmi anche su Instagram e Facebook, vi aspetto anche lì. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!